Povera Taranto, ridotta ad un immondezzaio. Siamo in via Duca degli Abruzzi, è mezzanotte, è un quarto e vedete cosa c'è. Non è certamente colpa dei cittadini, perché i cittadini hanno trovato i cassonetti, le campane, guardate, completamente piene e quindi essendo completamente piene i rifiuti vengono messi fuori. Quindi mica i cittadini possono prendere i rifiuti e portarli a casa di Melucci, che ha amministrato per quattro anni e mezzo e ha influito sulle scelte dell'AMIU. Oltretutto portare i rifiuti a casa di Melucci non sarebbe cosa da farsi, ma comunque bisognerebbe arrivare fino a Crispiano e si spenderebbe troppo in termini di carburante. Ma al di là di questa battuta, vedete la scelta davvero assurda, pazzesca, di aver preso, di aver acquistato questo tipo di cassonetti, di queste campane, che sono i cassonetti, le campane dei puffi, proprio perché sono troppo piccole. Non diamo quindi colpa alle persone. Le persone sono vittime di questo sistema perché, vedete, dove devono buttare i rifiuti, lo trovano pieno e lo lasciano fuori. Non mi venite a dire cittadini sporcaccioni, dovete dire amministratori incapaci. Le responsabilità dell'ex sindaco Melucci, che ha governato per quattro anni e mezzo, le responsabilità di Walter Musillo, ora candidato col centrodestra, che ha sostenuto a spada tratta Melucci per quattro anni e mezzo, stando in maggioranza e avendo sue persone di riferimento nelle partecipate e in giunta. Quindi Musillo è politicamente corresponsabile di questo scempio, di questo immondezzaio. Vedete se è possibile una cosa del genere. Soldi del cittadino contribuente. Allora io dico ai vertici dell'AMIU, all'amministrazione comunale, fatevi un giro, fatevi un giro nelle altre città italiane e vedete, imparate come si gestisce la differenziata. Perché, scusatemi, non mi dite che è un problema comune a tutte le città, perché in tutte le città italiane questo non accade. E io personalmente giro molto, ma molto, l'Italia e l'Europa. Quindi non si vede da nessuna parte uno scempio del genere. Guardate, 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 c'è da rimanere raccapricciati per tutti questi rifiuti che vi sono. Guardate, il problema sono i cassonetti, c'è poco da dire. Ma, guardate, sacconi dell'immondizia e dietro un altro scempio. Guardate lì, guardate, un'altra fiumana, un mare di schifezze. Guardate, non reggono, sono insufficienti. Sono i cassonetti, le campane dei puffi. Guardate, vergogna Taranto, vergogna Melucci. Musillo, e tu dove stavi? Musillo, tu amministravi con Melucci. Cittadini di Taranto, ora voi dovete scegliere. Se volete questo scempio, se volete questa città ridotta ad un immondezzaio, continuate a votare Melucci e Musillo. Se poi volete cambiare e vogliamo dare davvero una sterzata, io ci sono, e ci sono da 21 anni, da quando combatto per Taranto, 21 anni di battaglie giornalistiche per l'ambiente e non solo, ma anche per la vivibilità urbana. Migliaia di volte ho denunciato, ho sottolineato questi scempi. Mi auguro, con il vostro consenso, di continuare a operare per questa città, a lottare, amministrando, cercando di invertire la rotta, una rotta schifosa e penosa. Guardate, questa è Taranto, che piaccia o no.